Oh, 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 io non posso mai sfida. Oh, oh, io non posso mai sfida. Tutto pronto per la tradizionale festa patronale di San Maurizio Canavese, che si terrà dal 10 al 28 settembre, ad aprire l'evento gli Olympics Games, che coinvolgeranno per la prima settimana di festa ai ragazzi dei 6 e 14 anni. E ancora la mostra, viva il Carnevale Non, personaggi storici e costume del Canavese, vale da oste e dintorni. Tornei di calcio 5, bocce e il tradizionale Paglio delle Oche. Per tutto il periodo dei festeggiamenti non mancheranno le prelibatezze enogastronomiche, la musica e l'una park, a chiudere il grandioso spettacolo pirotecnico e la cena del Paglio delle Oche. Non mancate la festa patronale di San Maurizio Canavese dal 10 al 28 settembre. Non fa senti l'u healthy Non fa senti l'u falan Non fa senti l'u falà